pronto 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 e dimmi 26 mi fate pigliare con la sentire lo bullizzo per la finite ma è stati da discord pronto pronto mi sente se a niente un test salve 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 cosa fate qua niente lavoriamo ah come le puttane le puttane battono baciapiede mi scuso non mi curano più che ho fatto dopo termini simpatici sono due persone i medici pronto mi vado a scusare mi scuso scusatemi ho sbagliato che è successo mi scuso con voi grazie avesse dell'acqua e del cibo ecco perché si è scusato ma gliela devo far pagare si è molto volentieri mi faccia questa fattura quanto cosa vuoi si parli con il mio collega però e 3 3 cibo e 3 a cose possibili perché so veramente mi sto sentendo in un cano di zuccheri le faccio subito la fattura sono coperte le faccio anche uno sconto va perché verrebbe tanto venga venga ma scusi una domanda non sto un po scomodo con quelle pinne io no mi scusi vuole fare la botte no vedevo dare venga qui se vuole il cibo ecco a lei è sempre lì ecco a lei oh grazie caro oh tequila la chips è un alcolico il la bevanda le patatine sono molto buone invece ma come un alcolico ma sono beato non so come sia possibile sarà sarà un il servizio non beviamo quindi ma so beato non so cosa abbia bevuto ma lei ha bevuto quello che mi ha dato ma 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 forse ho bevuto un jack daniels probabile e allora ce l'avevo aiuto ma non mi riesco più a muovere è impossibile che il tequila la la laina è un alcolico aiuto il vaporize che succede non mi riesco più a muovere smetta di bere sono una paralisi vabbè la teniamo d'occhio ma cosa sono oh cosa sta bene ah si sono ok ci sono sono un po obbriaco ok è meglio che non guidi allora no 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 non lo so mica sono scemo stia lontano dalla strada non vedo dalla strada non dall'alcol di chi è di un nostro collega rip disco ah ok ok arrivederci 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 a che palle stanno guardando no a chi usa ma che si fa un culo ben tornato una macchina no non ce l'abbiamo con le pini arriverà sicuramente molto e basta in che condizioni sto c'è un garage c'è un garage e qui dietro no no ma che fa mica guido ho salvato media guido c'è un garage qui dietro dove forse può trovare qualcuno che le darà un passaggio dove noi indichi per favore allora lei fa questa strada di qua va a destra e lo trova sulla sinistra grazie non ci sono nove rinici riesce solo me ne volte la città la 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 grazia solo me ne Evo per la città Che palle come si fa non essere Pronto Perché dove muo il garage Fatemi prendere una macchina andare all'ospedale Dai corri corri Pronto Eccolo eccolo Vai a fanculo No No Oddio Qualcuno vuole venire a vanilla? Signore Io tutto bene Volete venire a vanilla? Da un passaggio a tutti Sì Sì Ho seguito le vostre istruzioni Volete venire? Faccio una piccola letto Volete venire a vanilla? Oh piccola letto Volete venire ragazzi? No Vado da solo Guido io Eh no no vado Magari veniamo dopo La seguiamo dopo Va bene arrivederci Ok non sono più ubriaco Ok Allora vado dal vanillo Vado dal garage Pronto? Vaffanculo dai tribù Allora Magna al vanilla Guardate 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 No Guardate No Perfetto Non volevo fare questo Ma non cercherò più di impennare con la moto Allora vanilla 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 Dov'è il vanilla? Sa che è questo No Grazie VDDV Grazie per il prenderlo Allora Allora Proviamo ad andare qua Dai dai vai Oh Ho rotto tutto Ho rotto tutto Mi scusi? Ma fa mocca a te la buchina e mamma 133 Cos'è 133? Dov'è? Dov'è? Dov'è il 133? ah ok bravi grazie 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 mi date un qualcosa per favore oh vaffanculo vai vaffanculo vai aiuto ma che è sta bottiglia di vita ancora aiuto ma sembra di essere una prostituta così cosa ho visto dai ragazzi mi fate ammazzare dai non dite mi abbassa la cam vai vanilla via coordinate impostate e hop andiamo a rincontrarci con gli altri al vanilla visto che almeno la carriera youtuber faccio più non video che video mi godo la vita a liberty city mi godo la vita a liberty city ecco c'è il pienone vediamo entriamo no non mi aspettavo questo pinone no datemi datemi da bere datemi da bere datemi da bere fate vintare va bene voglio fare una cosa oh sì il mio lavoro dei sogni venite non ci siamo male venite venite voi sono qua è la mia la festa sono da solo oh sì sì oh carlo eccolo il primo cliente sono un cliente un cazzo sono giordano ah giordano ciao che cazzo fai eh faccio un po' la puttana per arrotondare dimmi ma i soldi delle stream non vanno bene eh non streamo più da un sacco con tutti questi casili gias carlo sta venendo preso dal posto ma no no ma da chi chi cazzo è che ha preso dal tuo posto eh carlo j chi? carlo j grazie brutto skill oh sentimi un attimo carlo io voglio andare a prendere una pistola eh figa andiamo un attimo solo ma cosa stai facendo lei? io nulla te che stai facendo? io sto voce a buttare glielo ho appena detto eh io da poco mi sono svegliato da scallo senti io mi ricordo di essere morto al caso di un tuffo e di aver preso tutte le mie pistole andiamo alla nostra base alla ruota panoramica e qua carlo balliamo oh visto carlo basta 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 dimmi carlo camminerò fuori dal locale come se non avessi visto niente lei è un bastardo lei balla proprio come un pedofilo ma no arrivo arrivo ma questo bolide l'ha fatta con i soldi che bolide è? che bel bolide fa cagare che belli interni cos'è? un astromatto in parallela? senti attimo carlo io voglio andare ad acquistare una macchina ma io avevo una pistola lei mi ha promesso maledie monte mi trovo come un un ultimo degli youtubers guarda non sono io mica il coglione che è morto che si è ferito in acqua che è affogato eh ma sto facendo dei tuffi con i miei amici andiamo alla ruota panoramica c'è sempre movimento andiamo passiamo al vero centrale e si va alla ruota panoramica eh ma non possiamo fare a tuffare il pilone senza avere uno straccio di un'arma mi scusi eh va che non c'è nessuno quest'oggi oh una macchina dietro di noi molto lussuosa dove dove? l'ho vista questa? questa merda? no ma cos'è una subar del cazzo? questa però la prendiamo se è possibile andiamo via Carlo andiamo via andiamo via Carlo sì ma siamo diventati dei teppisti di 16 anni eh siamo tornati indietro vada alla ruota panoramica oh salve salve Carlo non lo so questi termini dai infatti sì mi scusi mi scusi il mio amico non conosce purtroppo la dialettica diciamo scusami un attimo prego prego lei la dialettica no stiamo aspettando anche noi per ricevere il cibo davanti scusi stavo prendendo una mosca eccola qua oh ma che fatti vandalici contro il locale ho schiacciato ho schiacciato una mosca ho schiacciato una mosca ma è sua questa macchina quale un ferrarino non è un ferrarino è un Lamborghini ma è sua è un lembo sì sì è mia oh 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 mio dio oh ma che ce la può fare vedere oh ma mi ha lotto i coglioni oh scendi da sta macchina prezzo di merda ma mi stai picchiando scusami andiamo a vedere il lambo ma che fai nooo ecco mi chiamo giordano giordano ma che fai possiamo fare delle forze gli scatti con la macchina del signore sì chiediamo chiediamo possiamo fare degli scatti ragazzi per il mio canale di instagram ma ci abbiamo un attimo fretta ma chi c'è un pullman il convoglio è partito il convoglio è partito il convoglio è partito il convoglio è partito e se non la diamo l'incidente viene l'agente come ti chiama lei però io non so capito come ti chiamano le gente siamo sullo spostapoveri fighe se non lo facciamo spostarci dentro oh oh stronzi chi vuole la maria come la maria no 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 chi vuole la maria ci sbagliamo no 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 date me il numero magico la maria ma la pulizia mi stai con di me ma lei come si chiama guarda guarda è stato con l'avvocato ah con l'avvocato allora aspetta spiego me non mi renda un'unica non lo puoi ripetere chi è questa la mia sinistra con la babba viola ma perché stiamo passando sempre da qui oh salve ciao mi dai un numero magico che ti do la maria aspetta andiamo tutti insieme alla maria grazie maria 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 la buca babba viola il numero magico babba viola baffanculo ma chi è che si è ruota il cazzo si deve cambiare oppure no andiamo a fare questo muttantuno ma mica mi cambio qua mi cambio a casa no ma andiamo andiamo ma che cazzo me ne fotte che ti devi cambiare tu aspetta 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 devo andare a chiamare altra gente andiamo dalla maria andiamo fammi scendere ragazzi ragazzi e dove andiamo a scendere ragazzi dammi un numero magico oh ma qualcuno ha un po' d'erba un po' d'erba? però abbiamo tante speranze ma che sta succedendo? vi do l'erba ragazzi dammi un po' d'erba e datemi il numero magico vedo giappanese ma ruppu cazzo vi do l'erba un po' d'erba grazie a te se scendiamo vi do l'erba a tutti scusi si può salire? salite 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 ma dove stiamo andando ragazzi salga salga lei ti muove da lì è tutto di merma anche lei ciao mani allora posso dire una cosa però allora vogliamo andare tutti insieme da Maria andiamo tutti insieme da Maria da fare una bella busta ragazzi se scendiamo vi do io la Maria a tutti no 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 con l'erba è questa è merma lei è questa è merma salite salite oh no yea oh no caca tu cazzo usa aspi 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 grazie marco ma dove stiamo andando per curiosità no no ma guardi è sceso tanto cazzo va come avete fatto scappare guardia bastardi vabbè master ma qua siamo tutti malintenzionati giusto no e faccio un gol dai tutti insieme ragazzi ragazzi tutti insieme sono salito e dai lello faccio un gol e faccio un gol dai lello faccio un gol oh bene in quantità oh ma c'è chi ha messo le musiche oh via sta musica via sta musica ragazzi possiamo andare alla ruota panoramica e se facciamo l'incidente vuole solo il conducente ma che fregato allora portiamo dei bambini mi piace i bambini una ruota panoramica che andiamo di di affaita concludere è così bella con il bambino mica te lo devi chiamare il bambino è l'albole sei un tribone ma va bene va bene va bene va bene va bene grazie sofie voglio voglio non sono vicino est oh tu cosa cosa dalle pochino a mente oh che puttana oh che puttana a cuore chi non sa stile è un filo di puttana è proprio un dinossato è un filo di puttana e poi un dinossato è un filo di puttana è qua mi pare oh però la panna mi piace a non tengo gelato da panna fate sedere la signora porca donna maionese e ketchup fate sedere la signora pochino tutti nel cespuglio ma chi è che ha questa voce da bambino dipende qual è non lo so non lo so oh fra occhio occhio staccionando oh è buono 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 oh ma questo è il pazzo che stiamo sull'atac sull'atac entraci col culo entraci col culo entraci col culo entraci col culo no 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 ous io l'ho visto grazie autista non si picchi non si picchi chi è che cA l'erba Qua chi è che vuole l'erba alza dei mani eccolo non si Fueni non ti problemi te non ti parla no no che pa io ho appena data l'erba basta fare queste sgommate ti do un po' di droga ti do un po' di droga vai a fare un meeting che meeting chi che parla io sono capuziello capuziello questa qua è già la seconda volta che ti incontro oh ma ci sono paleggiostre che cazzo è ma c'è? facciamo so paleggiostre so paleggiostre a maci so paleggiostre a tutti damiano damiano sono tutti nel sud qua ho capito la sega tutto a posto? portabari tutto a posto capuzzie tutto a posto eh no è a due posti è a due posti è a due posti 1055 eh però devi mangiare ma che è che il mort ma veramente è tutto magro magro sta io c'è tutto un auto post perché ti sei in cui è tutto magro magro sta di nuovo beccati sto culo te mo beccati sto muro è stato tutto magro magro è a due posti non tramò è tramò fammi vedere fammi vedere è tutto sciupato è tutto sciupato ma vedi le tocca le costo le arrivo fino alle costo ma dopo ma questo non è maschile ma perché non ce la luce è mia no scendi un attimo perché non ce la luce è tutto fatto signore denger non date il mangiare caro questa è storta non so chi lo ha dato che è quella se non chi è tolta questo è tutto storto ragazzi un attimo un attimo d'attenzione per favore mi dica io sto nel giro nel giro nel giro non è che giro però che sto nel giro per quello che io per me la cittobo ma no ma no ma no ma no no Roberto sì non è male no Madonna mia Sentiamo, sentiamo Sentiamo il signore, sentiamo il signore Che cazzo, fatemi parlare al minimo rispetto Non c'è stata più religione Questa è stata a chiedere una cosa Se non ci vedete i telefoni rubati un pochetto E ci sta qualcuno qua che li vende Perché volevo andare a De Mezzo Eh sì, sta a Franco Sta a Franco Franco il parrucchiere Franco il parrucchiere Franco il parrucchiere li vende No, allora Sì, si vende i telefoni Franco il parrucchiere È mio, deve essere mio Signore, signore Non sapevo che vende i telefoni Perché lui, quando Anche i capelli Vende i telefoni No, ma la parlazitano, mo Franco il parrucchiere E c'è la parlazitano, mo Che c'è, non soffermi più Te ne dava o tu si dite Franco il parrucchiere Comunque stavo dicendo Non è Franco il parrucchiere Non parla come magni, te capisco Ma vabbè, ma mica l'obiettivo è farmi capire Cioè, che pensi Comunque sia Ma dopo non c'è la comunicazione, no? Comunque sia, ti dico solo una cosa L'unica cosa che vendono qui È frango del parchetto Quello spazio cocaina Ma no, c'è, c'è No, frango, c'è Il telefono, il telefono è sotto banca No, frango, il telefono è sotto banca Ma se qualcuno ha dei giocattoli Sì, sì È normale Assaio, un giocattolo Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Io ho fatto dei giocattoli Danilo, hai rotto il cazzo Vieni qua Ho portato il carretto dei panini Andamocene, andamocene, dai, via Buonanotte Scusi, ma lei chi è? Capito? Attento che fanno bene Piacere Ma che maschino Serve il cinese, ragazzi Chi è il cinese a quest'ora? Comunque è il cinese È il cinese? Ma tu non vedi il cinese? No, il cinese è chiuso a quest'ora No, regali, siamo fatti troppe gamne Cioè, sto a più a capincazzo Eh, infatti, nemmeno io ci so capi qualcosa No, ma fanno TikTok Ma fanno TikTok? Che devo un po' Ma fanno TikTok? No, lo so, dimmelo tu Ma quando io... Io sfruggiamo Allora, signori, signori, signori TikTok Signore, direi di fare qualcosa di positivo questa sera Allora Andiamo a fare un'estorsione Ma, grazie Non so, bravo su queste cose Ci sto, vai Qualcun altro Facciamo la classica truffa del filone Che vuoi estorce, queste pinne? Trovate No, non esagerate Guarda che queste pinne No Non ti preoccupare, Just Andiamo, ragazzi, ci uniamo Andiamo, andiamo Andate a fare il culo Come cazzo, un uomo Ci vediamo, ragazzo, entrare tra cinque minuti Ma il signore, diciamo, un po' la macella ha buttato Sì Ma chi ha, uh Tieni questo Tieni questo Penso di bello Poi dagli altri Ma chi è, penso di merda Scendo la macchina Univindatamente Ma sono i nostri soci Ma cosa l'insulta Ma lei Ma la macchina sua, signore, il capuziello Sono a capuziello, un piacere Capuzzi, di appucia qui Capuzzi 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 Che è un problema, che pugno Oh, che pugno Oh, io vissi 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 Ehi Ma chi è questo? Occhio, occhio Scenano Scenano Tu chiedi che mi devi dare un pugno Scenano Tieni, prenditi questo Prenditi Ah, è quello che si è chiuso A tutorella Mi toccarello Signore, stringa la manina Grazie centrale Oh, veniteci a pia, merda Grazie centrale Capuzzi Vai con i nostri amici baresi Adam, 10,4 Adam I amici baresi stanno arrivati Stanno arrivati Ma chi è baresi? Chi è baresi? Chi è baresi? Di Milano Grazie centrale Tra cinque minuti Let's go Aspetta, dove vai? Nei corruti Vieni con me C'è una ria C'è una macchina C'è un cazzo Oh, vieni Ma stai con la centrale No, dai Vai, Radito Vai piano che me cago tutto Mannaggia Oh, veniteci a pia, da ci vostro C'è una barca Eh, ma grazie Mi caglio il mare Grazie da Peroni Ma vogliamo fare una cosa bella, bella Eh? Vogliamo fare una cosa bella, bella Stai zitto, cornuto Oh, cornuto, sai che lo vai a dire? Eh? Non ti dico ne manca Eccola la macchina, ragazzi C'è una mia pia Ma fai un bel tiktok, ragazzi Che io sono tiktoker Zitto, cornuto Eoh, cornuto, se ci fa a dice Oh, per il cazzo per un soltarello Basta, ragazzi Che so' fornupugile Minacca, vieni Sì, cornuto Facimo pesce a pesce Dove ci fa a pesce a pesce Eh, no, no, no E' un altro patto dove andata Mamma mia E' niente Sta cagato male, sta cagato Danilo Dai, andiamo a fare la scorsura in gara centrale Signore, venghi Andiamo a chiedere il pizzo, dai Andate, andate Io vado con l'altra macchina Andiamo a chiedere il pizzo in centrale Baffammo Dove si va? Via, grazie a entrare Spera Ma un posto dove si può fare un po' di pesto? Ma che sei di tua madre? No Pezzo di merda Oh Da posto? Ahia, ahia Così Tutto a posto? Mica tanto Eh, con calma Lo sapete che ci sono questi pironi? Questi eco-moss industriali? Con calma Ma dai, dai che gli faccio il meglio Via La famocca, ragazzi Ecco, ecco Sono proprio un troller Lo sai che io faccio i prank? Sì, sai Faccio i prank su YouTube, eh Ma va? Sì, sì Nome? Già a scarlo Dove vado a guardare? Faccio i prank con i miei amici che si chiamano Lo Show O anche chiamati lo Spettacolo Ah, ok Quei due ragazzi Li seguo, li seguo Quei due ragazzi con la camicia rossa Napoletani Sì, sì Napoletani Li seguo, li seguo Sì, sì Facciamo Con i Con i Lo Show Facciamo Un po' di prank Dove andiamo qua nel garage centrale a chiedere Con Giacomo Oakman Le lavagnette In franci coppie Questo è il nostro format Ma In franciamo le coppie Ah, ok Capisco, capisco Mi sa che anche lui l'ha già visto Oh, scusami Una chiamata di lavoro È in città, signor Carlo Pronto? È in città, signor Carlo Chi è? Tony il Pappone Oh, Tony Carissimo Sì, abbiamo un meeting Al garage centrale Sì, poi abbiamo un valutato Ah, molto volentieri Sempre un piacere fare con lei Arriva, arriva E' andato a cinque minuti Eh, era Tony il Pappone Scusa, mi sfera Dov'è l'altro? Com'è che si chiama? Danilo? Sì, sì Eh, non so Ha avuto un ictus Sembrerebbe Nolleggiato la macchina Ma questa è salta? No, no, che cazzo Ne siamo Nonnoleggiata Mi piace Fa prova Fa prova Eh, prova, prova Cosa si fa qua? Oh, ma che fate? Mi ha ammazzato il mio conducente Oh, shit Insomma, che demo fa? Buonanotte, io Buonasera Arriva a volerci Oh, buonanotte Oh, buonanotte Ma come si chiamate il poliziotto? Oh, poliziotto Sempre a party cane Sono sempre io Tra l'altro di me Mi sono in questa macchina Mi sono in questa macchina Se potete fermarmi Sani, sani, sani Mi dissocio Mi dissocio Ma abbiamo un appuntamento A casa centrale Ritorvi No, ma lui c'è troppo Casino Ma ritorna Ritorna Abbiamo appuntamento Conto di il pappone Ok, allora Abbiamo appuntamento Con lui Ma gli amati Bene Dai, allora Che amolo Qua l'appuntamento Criamolo qua sotto Però Bravo, bravo Bravo Vado sotto Bravissimo 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 Vai qua dietro Così Ma se deve guidare meglio Però Ok, vai Così Oh, aspetta Zitto Zitto Se non ci vedono Hai capito? No, certo Stanno spettando Torni in pappone Stai attento Stai attento Curnutos Sì La sentiamo La sentiamo Può smetterla? No, scusa Scusa No Può smetterla? Può smetterla Per favore Va meglio Può smetterla di fare questo suono Con le gomme? Per favore Per favore Se lo smetti Con quest'auto Di merda Se ne vadi No, no Può rimanere Può rimanere Basta che Che Crea qua un appuntamento Dai Arrivato il pappone Eccolo E' lui mi sa No, non è lui E' il pappone Vuol dire che Tiene tanti soldi No No, no Viva la droga Dino Carlo Vieni qua Vieni, vieni Creamolo qua Creamolo qua In disparte Vieni qua Dino Carlo Sono io il pappone Dino Carlo E' Tony Dove nessuno ci vede Tony Ecco Ma non smette di fare questo suono Non c'è Damiano Dino Carlo Mi sa che ci ha lasciato L'hanno ucciso Damiano Sì Brumor Mi si è bloccato L'acceleratore Basta Basta Mi si è bloccato L'acceleratore Carlo Si nasconda Si nasconda E' da lui che ci dobbiamo nascondere No, no Aspetta Ok Abbassati 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 anche tu Ti vedo alzato Lo vedo alzato Abbassalo Lo vedo alzato Abbassalo Lo vedo alzato Abbassalo Raga Aiuto Ma non mi mettate Eh Giochi di ruolo Giochi di ruolo Tre coppie Ma la guardia Ma la guardia Ma la guardia è un maffato Un po' d'erba Ma secondo voi Ma dov'è Ma la guardia è un maffato Ma la guardia è un maffato Sentite qualcuno ha un ferro Il primo Potete sparare a questo colnudo che continua con le ruote a fare casino E' vero, ammazzato Il cuore è caso Veniamo, Carlo Oh, dottor, però Iki Kyun Staggerà Ho il freno rotto Oh Gli acceleratori rotto Attenzione Scusa Se ne vada, se ne vada Se ne vada, se ne vada Attento, attento Asconditi Se ne vada, per favore Oh, dottor, stai fermo che sta a cazzo da macchina Dottor, ha rotto il cazzo Dottor, moca Basta Oh, capuzzie, mi ha rotto il cazzo Scusami, scusami, cazzo Così, mezz'ora che sta a posicolare Oh, ha rotto il cazzo E basta, e dai Un po' ti ha rotto la macchinina, moca Oh, oh Ma ragazzi, hai l'impero? Basta Perché cavoli Chi è che c'è? Togna il pappone? Sì, c'è Togna il pappone Ma cool, ha cool con l'help Allo ti devo all'asta Oh, ma tu stai, ma Togna il pappone, dove sei? Dov'è il cinese, ragazzi? Sono 37 15 10-4, 15 C'è un pacchino Criminali 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 No 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 Criminali non si tocca di cazzo ma prendiamo qualcuno facciamo fare il salto signore qualcuno vuole o signore che la mattina venga venga dipende di prima con il romano sempre lei con la concessione lo svaldo ma non è stato svaldo a fare il salto della dica è scemo divertente però salti prima non ci saltiamo dopo io faccio andiamo a sbloccare il salto della dica io faccio senza problemi va bene signor canta indugio ma non c'è damiano pericoloso ospedale in questo maniera aggressivo è molto aggressivo sembra un cane randaggio ma cosa vogliono questi dietro adesso li sparo adesso li sparo adesso li sparo ma non hai niente adesso li sparo se ci seguono ancora spara spara c'è il ferro allora io vorrei riprendere il salto della dica ok stai fermo che li sparo ma non te lo bandano sul canale carlo su youtube stai fermo che li sparo ma non hai niente una pistola ma non hai niente una pistola eh ma li sparo lo stesso carlo no c'è anche maxoff qua cazzo io faccio ucciso o c'ho ucciso una persona io ho un prete anch'io forse l'assessore io sono virgine mi uccisione interna la verge d'oliva non so se dovrei dirlo che cosa eh i miei misfatti e beh mo che famo mi raccomando regista se non cado a registeri vai a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo vlog siamo stiamo filmando il tramonto vai vai devi sapere sull'orlo sull'orlo uno non so sono con questi miei amici youtuber ma qua no non mi piace dall'altro lato è più bello ma ci stanno i sassi vai vai no te prego vada 100.000 likes mi ammazzo te lo dico mi ammazzo che bello adesso non bucchiamo ci stanno i sassi aspetta ha preso una persona sbagliata vogliamo il nostro amico capo no no bello salta con me dai saltate saltate 100.000 likes nuovo salto tutti e due tutti e due vai porca mi sono cagato sotto vai allora vai capuziere fai dentro del video io si mi metto ah ok sei pronto devi dire a 100.000 likes nuovo salto salve a tutti i belli ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi faremo il salto della diga 100.000 like per un assalto vai capuziere vai vai fallo buttare vai 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 ma mi devo lasciare io ma perché io hai preso come cavia vai 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 occhio vai ma tu ma che sta a fare tutte e due ma te denuncio no no occhio non mi buttare oh occhio buttamolo insieme no sbagliato vai si devono buttare oh chi sono oh chi sono brumotti c'è la truppa di brumotti vai capuziere mettiti in cima per registrare capuziere che c'è un sole bello ho sbagliato ti noccato mi scusi allora prima di buttarti devi dire ma fai vedere fai un tutorial aspetti fai un tutorial fammi il tutorial spiegami oddio ma grappo ma grappo no oddio respira signor carlo no no a me no quindi sono capuziere ma che fai è matto capuziere venga qua faccia un tutorial capuziere un tutorial che stava fa salite ragazzi che stava fa questi oh salto della riga facciamo il salto della fede per centomila rights io non so dove siano gli altri hai detto sinceramente andiamo capuziere 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 andiamo capuziere capuziere ma sono morti ma come mi dissocio ma che stava facciamo il caldo facciamo giù santo della riga ma sono vivi si sono vivi salite salite capuziere sali se non caldo ti vuole salite dai che si fa buio buttiamo capuziere 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 salite damiano stiamo facendo il salto della tiga mi stanno buttando mi stanno buttando andiamo salto della tiga damiano venite venite c'è anche damiano beh ho visto ho investito tutti damiano chi vuoi 100.000 dollari non mi buttare pezzo di merda ma non si chiama damiano non lo so come cazzo te chiamo mi chiamo giordano scusa no 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 giordano stai calmo giordano fai una cosa oh lascia mettiamo il giordano no no lascialo lo fai i tuorponte no che c'ho figli oh c'ho figli poracci via qua giordano oh no che c'ho mio figlio no lascia oh lasciami stare capone capuziello rifai lì occhio occhio capone lasciami stare capuziello ti do la mano ti do la mano vieni qua questo è un prank epico che può finire male no ecco fatto l'ho perso damiano mannaggia il cazzo l'ha ripreso l'ho ripreso l'ho ripreso a posto no che brutta cosa si è buttato ma qualcuno può prendere l'imbraccio capuziello carlo damiano e da bene qua giù ha fatto il bancio in gioco lo vedo lo vedo no pupurriello pupurriello venga qua venga qua pupurriello no si è buttato prenda in braccio capuziello appena sale lo prendo in braccio lo prendo lo prendo da carlo lo prendo si 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 anche questo anche questo con la camicia si si io lo vedo laggiù vorace proprio ridotto male guardalo là damiano ecco fatto ecco fatto ecco fatto e sto al secondo e no dai frate non me buttate prego dai c'ho famiglia c'ho una madre che facciamo signor carlo c'ho una madre e un padre abbiamo già abbiamo già tutti i like ok lo lasciamo quanti like avevamo con quello là eh centomila già eh capuziello damiano mancherebbe mancherebbe il capuziello con un milione di like capuziello vedi che facciamo la chiusa finale vai vai carlo non si muove damiano eh mi sa che non ce l'ha facciamo l'altro facciamo l'altro devi dire un milione di like nuovo video vabbè te la faccio io va bene che fa capuziello maronna mi sono messo la paura capuziello stia tranquillo mi dia la mano mi dia la mano nessuno la vuole fare male sto scivolando stia dove cazzo vado stia tranquillo capuziello nessuno le vuole fare male Carlo damiano non si muove e damiano mi sa che non è cosciente ha fatto il bange in champion che non sa le dovute sicurezze ma che fa capuziello la pimento damiano mi sa che non si è attaccato al bange eccolo chiama il dottore dottore salvi sopra salvi sopra vai e che cazzo succede nel lavoraggine dottore successo è successo un dramma venga con me salga si deve lanciare damiano non risponde è qua damiano dottore cosa è successo salga le spagane volate giù vai hai fatto non lanciare mi deve spiegare no venga qua guardi mi faccio vedere direttamente salga vai 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 sali sali non ti preoccupare sta sopra non ti mettere paura vai 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 facciamo buttare il medico ragazzi dai facciamo buttare il medico mi raccomando perché se no non lo può salvare vai prendilo in braccio vai signor dottore sigili per cortesia prendilo in braccio come può vedere qui sotto c'è un ragazzo purtroppo sfortunatamente è caduto accidentalmente è scivolato per il nostro un prank è finito male del signor caro è finito male è finito male è finito male si potrebbe lasciare per recuperarlo io vi ricordo che qualsiasi azione illegale contro i medici è perseguibile penalmente no 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 ma noi non se la anculamo ma per carità no ma guardi dov'è qua ma no ti butta ti butta non si muove Damiano signor caro fatelo buttare ma non mi posso buttare signore non si può buttare però lo vede qua sotto lo vede lo vado a salvare no ma è in fondo al canyon si si butta insieme a lei così lo vado a salvare no vedo se riesco a raggiungerlo in fondo deve salvare tutti a prescindere da ogni situazione andiamo a fare questa spedizione ragazzi per salvare Damiano buttati buttati dai non ti vergognare buttati buttiamo pure spicciazza ma cosa mi butto con le macchine con le macchine sali sali andiamo a salvarlo andiamo a salvarlo portacci che macchina che c'avevo non credo sia nostra è rubata vai vai tacci i vostri ma forza come a destra spinni capuzzi non possiamo correre troppo con questa macchina basta che non pare sotto ok parcheggia qua in doppia fila no no dove vai dove vai parcheggia qua perché qua non si può scendere ti faccio vedere io dove si può scendere qua si può scendere ah ok vai no no oh ecco fatto ecco fatto no ah mi sa che sono vivi si si sono oh 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 prendi Carlo in braccio è morto ahahah ahahaha ahahah 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 ma sei lanciato palmo in braccio poverino ahahahah haah possiamo lì in ospedale muoviamoci ma se lanciato poveri hanno ecco all'epicolo ahahahah ecco il medico si è buttato eccolo medico c'è un ferito medico ecco fatto pure il medico medico lo vede? medico lo vede? eccolo qui questo lo metto in terra lo metto in terra ha provato a volare ma non c'è riuscito ma che sta facendo come l'organe ma mi scusi ballano è una nuova tecnica lo metto in terra no ma questo è via wireless faccia sedere la signora sono nuove tecniche ragazzi come si chiama sta tecnica tecnica perianale faccia sedere la signora testa testa vedi un po' si puzza un po' il culo ecco bravo se glielo appoggia si rianima prima vediamo vediamo testa tu testa un po' medico un po' di cure faccia sedere la signora faccia sedere la signora medico c'ha dei bende le posso dare al massimo tre bende grazie signor dottore grazie mille le devo fare la fattura mi può tirare un pugno? no no non serve medico medico anche se è stato il concessionario le pago ma il ragazzo quello che si è suicidato l'ha salvato essendo fuori servizio si le paga facciamo finta il servizio ma l'ha salvato il ragazzo sulla scogliera? mi ne dia una mi ne dia una allora facciamo così quanto gliene servono una una l'ha salvato signor medico l'ha salvato il dottore sulla scogliera? si ragazzo sta minumbrino 484 capuzziello dammi un attimo capuzziello scendi un secondo stavolta siamo a posto allora dobbiamo andare un attimo a cercare capito? ciao regà ci avete in ferro? si si ora lo andiamo a comprare venite venite andiamo a farla andiamo Carlo no Carlo non si può la caccia della città con questa macchina qui no non fa niente Carlo sia fermo ma vai Carlo Carlo andiamo a trovare no no la buttano fuori dalla città non lo faccio cosa cosa? andiamo a trovare signora a maggioio ma il medico non ha no si è rotta dai Carlo si è rotta ma il medico l'ha salvato il nostro amico faccia sedere la signora giordano ma come mai scasco giordano giordano ma non sono le pinne non è vero guarda qua ma no vabbè forse no ma non ho le pinne non è per colpa delle pinne giordano 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 oh eccolo eccolo vai chiamo al medico chiamo al medico amiano lo prendo in braccio ma il medico ma vaffanculo pezzo di merda ci ha ci ha crepati ecco no ma raga ci avete una cosa da mangiare ma dove si trova dove si trova non capisco cellulare stai dormendo cioè noi abbiamo fatti i sermoni e lì sei visto cazzo di fiume eccolo andiamo ma che fai capuziello andiamo ma non può che cosa che cosa non posso lei sta parlando due molti no uno solo io ne vedo ma non ci sono i nostri amici d'annunzio dove è più in primo ma raga ci avete imparito con la porchetta carlo eh ci servirebbe blim blim mo io stiro eh c'ho una fame io delle tortillas c'è una tortilla ma ma presti quanti like abbiamo fatto carlo 100 milioni bene valsa la pena molto valsa più valsa che pena Damiano Damiano penso si è divertito tantissimo eh qua bisognerebbe venire un altro giorno il prossimo chi è max il prossimo che salta la mia carlo faccia sedere la signora eh non ho idea non ho idea eh mamma che ho parlato non lo so ma c'è per caso Martini nel server oppure no informazioni informazioni non scammabili no quanto è stilosa questa camminata e ragazzi a questa ora mi sembra un po' difficile trovare armi più in prima penso che sia morto Carlo ma è un po' tardi un po' tardi mi sa ragazzi che mi sposto io vi dico la verità mi senti male Sì sì Namo casini che sta da copiare che sta in segui i brunotti vai che sta succedendo un po' basta cadere vabbè ragazzi io non mi sa che cambio gta nel senso che è figo ma è un po' tardi per cui rischiamo di non avere niente per favore salva martin da boia de boia de 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 oh ecco io si mi dica mi dica mi dica come è possibile mi scusi non lo so non lo so neanche io mi faccio anche io queste domande andiamo dov'è damiano lo faccio a scendere signore è morto carlo no 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 sono solo imparato no dov'è damiano ragazzi mi sa che stacco gta cambio eh carlo dov'è damiano damiano è morto andiamo all'ospedale allora si abbiamo fatto like damiano carlo abbastanza abbastanza ragazzi ragazzi io chiedo gli occhi da gta ci vediamo domani perchè eh perchè è un po' tardi in gta in questo momento non c'è bling bling oddio ok andiamo a comprare il telefono allora dai ciao